la disney brutta e cattiva mi schifo flop bene sapete che che introduzione particolare sì fino a poco fa e infatti adesso entreremo nel dettaglio nel cuore dell'argomento solo una piattaforma streaming era inattivo solo una piattaforma streaming era profittevole e parliamo di netflix la netflix l'ha sempre stata quindi quindi nei vari discorsi che facevamo ricordatevi che solo netflix ebbene disney plus è la seconda piattaforma streaming ad ottenere degli utili ad avere il bilancio inattivo ebbene sì finalmente ce l'hanno fatta ce l'hanno fatta nel primo trimestre di quest'anno del 2024 e il passaggio dal rosso al verde ha davvero del clamoroso perché nel primo trimestre del 2023 quindi dell'anno scorso disney plus combinata ad ulu altra piattaforma che esiste negli stati uniti che da noi banalmente diventata star ecco questo pacchetto un anno fa perdeva 587 milioni quest'anno primi tre mesi del 2024 sempre questa unione è inattivo di 47 milioni quindi siamo passati da un meno 587 a un più 47 poi per dire la verità disney sempre in america gestisce un'altra piattaforma sportiva espn e se noi uniamo anche espn a questo che diventa poi un trittico sarebbero ancora in passivo però sarebbe un passivo di 18 milioni non di 587 quindi comunque la crescita sarebbe molto sostanziosa e poi ripetiamolo se parliamo solo del reparto intrattenimento audiovisivo disney plus e ulu sono abbondantemente inattivo oramai ma perché signor angel lei ha delle teorie che a conti fatti non mi risulta che soprattutto nell'ultimo trimestre disney plus ci abbia presentato dei prodotti forse shogun sì sì ma io credo che in realtà vabbè di una cosa ne parleremo dopo quindi x man x man 97 leggo in chat no in realtà pensavo ad esempio da noi c'è una trilogia che si trova su disney plus meravigliosa io questo fine settimana andrò a vedere il film che lei ha visto ieri signor matioschi e sono rimasto un po triste leggendo la sua recensione ma non solo la mia no vabbè però io ho letto la sua e quindi ho detto di qua mannaggia la miseria perciò in realtà credo che ci sia un po di quello e un po tanto ulu io credo che la forza al momento sia principalmente quella oltre il fatto che comunque si possono recuperare certo tutti i film usciti al cinema su disney plus pian piano ok però secondo me è ulu che che sta spingendo tanto anche perché semplicemente ho visto che c'è stato un forse in previsione di alien romulus c'è un rewatch folle di tutta la roba di alien che almeno danno in l'italia è su appunto su star non so se in america sia su ulu questo lo ignoro non saprei boh allora in effetti anche in america ormai ulu sta diventando un pacchetto aggiuntivo di disney plus quindi in sostanza sta diventando la loro star come da noi c'è questa sotto sezione cosa che può avere contribuito però già l'anno scorso sebbene le due entità fossero slegate erano unite in un'unica soluzione e vedo tanti che fanno riferimento a specifici prodotti leggo magari perché hanno canonizzato le serie marvel netflix quindi dobbiamo immaginare che all'improvviso gente che prima non si è abbonata via andiamo su disney plus perché sono diventate canoniche ma un po difficile no non credo magari persone che si sono balzate in realtà tanti film al cinema che ne so basti pensare anche the marvels eccetera che a un certo punto hanno detto oh ma sai che c'è faccio l'abbonamento e mi recupero queste cose in effetti pare che the marvels stia andando benissimo su disney plus ma ci sono due motivi che sono stati diffusi dagli analisti effettivamente sono un po meno affascinanti gretti addirittura il primo l'introduzione delle pubblicità ah eh già perché sono una fonte aggiuntiva di soldi che qui da noi ancora non sono ancora arrivate qui da noi giusto mi sembra di no a dire il vero io sono abbonato al livello maggiore quindi non non colgo neanche i cambiamenti anche quello annuale noi dovremmo essere andati però in america quel che è certo è che il livello con le pubblicità c'è e a quanto pare non sta spaventando terrorizzando anzi in tanti si sono abbonati specificatamente a quello perché il più economico e l'altro motivo intanto mi dicono che anche in italia c'è perfetto ah ok quindi proprio una cosa a livello globale l'altro motivo è la cancellazione impedire la condivisione delle password quindi spingendo chi prima con un solo profilo foraggiava un'intera famiglia a creare dei profili singoli altra manovra che quando l'aveva applicata netflix a giudicare dal sentore di questo web a cui diamo sempre un'importanza inaudita avrebbe dovuto portare alla fine di netflix alla sua implosione e invece guarda un po chi ha applicato questo stratagemma si trova i bilanci in attivo qui da noi c'è questa cosa ad esempio c'è c'è perché io condivido ancora il mio conto con mia sorella ma vivete nello stesso edificio no non viviamo nemmeno nella stessa città allora forse non vi hanno ancora scoperti ok non è che io foraggi solo mia sorella no 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 ma poi si poteva fare fino a poco tempo fa quindi evidentemente magari in italia non hanno ancora dato il giro più stretto però teoricamente ormai è una pratica in disuso ok e poi certo hanno anche alzato i prezzi ovvio ovviamente sì quello è il terzo motivo ci mancherebbe altro quindi hanno scoperto che insomma aumentando l'entrata con pubblicità quindi non è tanto un contenuto singolo ma sono più che altro dei fattori veramente veramente terra terra cioè i soldi i soldi le pubblicità e quindi alla fine si può riuscire ad avere una piattaforma streaming profittevole uno su mille ce la fa in questo caso due netflix e disney plus tutti gli altri al momento hanno i bilanci in negativo e ad esempio paramount sembra essere davvero alla canna del gas questo è posso dire che per alcune cose è un po strano nel senso ad esempio qualche cos'era due mesi fa mi ricordo più prime ha introdotto l'aggiunta di cos'era due euro al mese per cosa che io ho fatto per non vedere pubblicità ma nonostante questa bella rimpinguata di è ancora in perdita io non capisco però l'appena fatto è attenzione i risultati si vedono poi magari l'anno prossimo o nel prossimo trimestre vero ma io temo che prime per i soldi che investe nei suoi prodotti in maniera non voglio dire ma con un riscontro un po forse fallout è un successone e fallout è la prima però da un bel po di tempo che sia effettivamente un c'è in realtà inizialmente si diceva anche degli anni del potere poi a conti fatti si è scoperto che non esattamente c'è che non ci fosse stato poi questo enorme riscontro in termini di abbonamenti realizzati grazie a però certo come dici tu magari ci vorrà ancora un po di tempo speriamo io non so credo che comunque al di là di queste strategie che possono funzionare secondo me a breve distanza nel senso ok nel giro di sei mesi un anno vedi che effettivamente grazie all'introduzione di torni appunto in attivo però e volendo è un'idea abbastanza ingenua o romantico quel che è la forza di una piattaforma la facciano i contenuti disney plus attualmente con i suoi originali non parlo nemmeno adesso di hulu o da noi star perché vi sarebbe molto semplice parlo proprio degli originali disney plus non mi sento di dire attualmente che sia una piattaforma nonostante ci siano quelle tre quattro cose che comunque mi interessano però non mi sento di dire sia una delle piattaforme che reputo soddisfacente per il pacchetto che offre ma anche qui bisogna capire cosa si cerca perché poi l'anno scorso il film più visto a livello mondiale sulle piattaforme streaming era oceania ci sono bambini presumibilmente famiglie che guardano e riguardano i classici disney il catalogo storico i prodotti per l'infanzia sì però mi io credo che quella cosa sia stata più e ogni anno ti ricordo anche che ogni anno quando vediamo la classifica della roba più vista gli original non è che siano proprio i primi posti è sempre una roba vecchia come il cucco appunto per questo credo che cioè il fatto che questa strategia abbia funzionato semplicemente introducendo pubblicità impedendo la condivisione quindi concretamente aumentando aumentando il profitto non attraverso il contenuto ma attraverso le dinamiche di fruizione dello stesso sia un espediente che può funzionare nel breve periodo ma a lungo andare secondo me perché adesso farò un parallelismo un po così il il fabbricante di lacrime questo bellissimo film italiano originale netflix è tipo stata la prima pellicola originale italiana a raggiungere i primi posti nel mondo worldwide e quindi uno dice wow incredibile no fa veramente mi dispiace dirlo perché l'ha apprezzato sono contentissimo per voi ma fa veramente schifo e purtroppo cioè non è quello comunque che ti fa la differenza la differenza lo fanno altri prodotti che in effetti sono assolutamente meritevoli di attenzione generale sono ottimi e si trovano su netflix che sono usciti anche ultimamente proprio nelle ultime settimane esempio sempre l'anno scorso serie più vista su netflix suits che era già finita da un pezzo in tv e loro l'hanno ricaricata e tra parentesi mio padre la sta guardando in questo momento è meravigliosa quindi vedete che poi noi a volte non abbiamo traccia delle esigenze del pubblico generalista perché la sta guardando mio papà perché gliela avranno consigliata i colleghi lui è iniziato con shogun si è appassionato perché prima al mondo dello streaming non lo toccava neanche di sfuggita e poi evidentemente qualcuno ma guarda guarda t-shirts e quindi sta facendo un binge watching estremo e fa bene perché harvey spectre state of mind forever quindi sì mi sento mi sento la voce di edoardo stopacciaro tutto il giorno in casa è una cosa piacevolissima esatto bravissimo tra l'altro in quel ruolo che è il ruolo in cui l'ho amato di più in assoluto è fenomenale e sì 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 sicuramente queste piattaforme però sai cosa mi sento di dire questo ad oggi quantomeno ad oggi netflix a livello di originale ha una potenza di fuoco mostruosa perché sì esce tantissima roba alcuna discutibile me ne rendo conto ma escono anche tanti prodotti ottimi davvero davvero buoni e ne escono in continuazione io francamente rispetto agli originali di disney plus tralasciando shogun non ricordo proprio di disney plus quindi non star non ulu eccetera un ultimo prodotto che mi abbia fatto dire wow ti dico io l'impressione che non che non gli servano paradossalmente e per il momento grazie a questa operazione che hanno fatto da poco no ma secondo me entro fine anno si ritroveranno un po da capo a 12 certo non con chiaramente non con quelle statistiche lì magari andranno in perdita anche solo di poco però secondo me servono dei contenuti forti servono dei contenuti originali forti per come la vedo io vedremo vedremo tra l'altro mio papà è una di quelle creature che che salta la sigla di ciò che guarda ah perché provi dolore ti danno l'opzione per farlo è vero è troppo allezzante